Salve, sono Vincerelli Rossano, recentemente campione del mondo alla Culinar World Cup di Rossemburgo. Vincere la Coppa del mondo è intanto sacrificio in segreto e non so che dire, segreti non ci sono. Io avevo già provato 4 anni fa a vincere la Coppa del mondo, per un banale equivoco creato da me, errore, ho perso la Coppa del mondo e quando mi sono ripresentato dopo 4 anni, ho detto non voglio più sbagliare, la voglio portare a casa, visto che era tanti anni che non veniva in Italia la Coppa del mondo della Culinar World Cup. E' andata bene, ho realizzato 4 testere al piatto, 4 tipi di cioccolatine più una pièce in pastiglia di zucchero e caramello. E' stata apprezzata dalla giuria e sono abbastanza tradizionalista e quando vado all'estero voglio che si riconosca che vengo dall'Italia e tutti i temi che scelgo, 4 anni fa ho scelto la miniera, visto che abito in un paese dove c'è una miniera di mercurio e ho fatto quello di tema perché me lo sentivo di parte di casa mia e invece questa volta ho detto facciamo le mille miglia, visto che lo conoscono comunque da tutte le parti del mondo e è stato apprezzato.